Non si è fatta attendere la replica del presidente della provincia Michele Strianese dopo le polemiche legate all'ordinanza emessa da Palazzo Sant'Agostino giovedì scorso. Tale provvedimento, che ha autorizzato il temporaneo stoccaggio della frazione secca tritovagliata in balle presso l'ex stir di Battipaglia, ha scatenato l'ira della sindaca e dei comitati, recatisi presso l'impianto per verificarne le attività. Una situazione di caos sulla quale Strianese ha ritenuto necessario intervenire. Non è assolutamente vero, afferma, che l'ordinanza avrebbe trasformato l'ex stir addirittura in una sede di discarica di stoccaggio provvisoria di ulteriori 2000 tonnellate di rifiuti. La verità è che nello scorso mese di giugno, a causa di una manutenzione programmata del termovalorizzatore di Acerra e del contemporaneo incremento di produzione estiva dei rifiuti indifferenziati, si rese già necessaria l'adozione di un'ordinanza presidenziale per autorizzare lo stoccaggio provvisorio di frazione secca di rifiuto prodotto dallo stesso impianto, in attesa dell'evacuazione verso il termovalorizzatore di Acerra. Non essendo stato ancora possibile l'allontanamento del predetto rifiuto verso l'impianto di Acerra, conclude il presidente della provincia, si è reso necessario rinnovare la predetta ordinanza presidenziale. A Battipaglia non arriverà un grammo di rifiuto in più di quello che è già attualmente presente nell'impianto.